Sebastiano Somma, da un po' non la vediamo in televisione, per quale motivo? Fondamentalmente perché ho intrapreso un percorso diverso, anche legato al teatro, al grande teatro, ma anche perché mi erano state offerte delle cose in cui non credevo, sinceramente. Dopo i grandi successi delle serie di Sospetti, Caso di Coscienza, Madre Teresa, insomma tutte quelle cose belle che ho fatto, mi erano arrivate delle proposte minori, confesso, e quindi siccome non ho la smania di starci per forza dentro al tubo, e quindi ho preferito fare delle cose belle che mi danno grande emozione col teatro, e portare in giro spettacoli come Uno sguardo al ponte di Arthur Miller, oppure l'ultimo che ho finito a Roma proprio in questi giorni che è Tangentopoli, abbiamo raccontato il processo immaginario tra Di Pietro e Craxi, io nei panni di Di Pietro, ma soprattutto questo grande testo di Miller, Uno sguardo al ponte. E poi cinema, sto facendo del cinema, sto ritornando nelle sale col cinema dopo un po' di anni di assenza. Che film? Diciamolo ai telespettatori. Dunque, uno si chiama My Italy, è un film corale molto divertente, è una commedia divertentissima, particolare, però non è la classica commedia all'italiana, ma è intanto una coproduzione italo-polacca, ma è una commedia surreale che parla d'arte, l'arte è proprio quella pittorica, dove io interpreto un personaggio molto originale, sono un omosessuale che vive da rigattiere in un anfratto girato a Napoli, in dei luoghi dell'Italia, così, quindi un ruolo molto poeta e molto diverso appunto da quelli che ho fatto negli ultimi tempi. E per poi ritornare con un altro film che si chiama Mare di Grano, invece che è un film di un autore toscano, che si chiama Fabrizio Guarducci, dove sarò rimando questo cantastorie che accompagnerà questi tre bambini nel loro viaggio verso il mare, perché è dal mare che viene uno di questi tre bambini, un bambino appunto arrivato da uno dei tanti sbarchi. Però anche questa è una commedia poetica, sono i bambini che ci lanciano dei messaggi a noi. Lei è qui a Palermo per un'occasione particolare, per incontrare un amico? Sì, ho incontrato un caro amico, Francesco Benigno, che negli ultimi tempi con cui mi sono tenuto sempre in contatto, perché ha vissuto a Roma tanti anni, abbiamo anche passato assieme una bella fetta di vita, abbiamo condiviso lunghi periodi assieme, è una persona molto sanguigno, uno vero, sincero, uno tosto, uno che si è sempre combattuto per se stessi e anche, devo dire, anche per gli altri, con un senso anche molto forte della lealtà e dell'amicizia. Quindi sono venuto per lui, sono venuto per Valentina, per un programma televisivo allo specchio e anche per rivedere Palermo, perché no? Perché io sono molto legato a questa città e a questa terra. Grazie. Grazie a tutti.